L'esigenza e l'obiettivo anche di questi servizi è soprattutto quella di riappropriarsi di un territorio. Lo Stato c'è, lo Stato ha la responsabilità dell'ordine della sicurezza pubblica nella città e quindi era necessario una presenza qualificata, specialistica, importante della Polizia di Stato, ma in genere delle forze dell'ordine. E così è stato, mercoledì pomeriggio è scattato un maxi blitz antidroga nel quartiere di Saione che si è concluso con due arresti e sette denunce, un'operazione che si è concentrata negli angoli più caldi della città dal parco del Colle del Pionta ai giardinetti di Campo di Marte, cinturati per l'occasione dalle forze dell'ordine e passati al setaccio. C'erano segnalazioni dei cittadini, ci sono state una serie di denunce anche fatte dai cittadini e ci risultava essere le zone forse più critiche di questa città. In azione due squadre del reparto mobile e sei equipaggi del reparto prevenzione e crimine di Firenze, la squadra mobile e le volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura a retina, la scientifica, l'ufficio immigrazione e diversi equipaggi della Polizia Municipale. Era necessario una presenza qualificata, specialistica, importante della Polizia di Stato ma in genere delle forze dell'ordine. Circa 200 i grammi di sostanze stupefacenti trovati e sequestrati anche grazie al prezioso fiuto del cane antidroga Amper. All'interno di un negozio etnico di Saione i poliziotti hanno infatti scoperto alcune dosi di cannabinoidi, cinque gli involucri di cellophane ben nascosti all'interno di una scatola di cartone con delle banane e altre due di maggiori dimensioni invece all'interno di una borsa di un cliente che si trovava lì presente al momento del controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati poi trovati altri 70 grammi di droga nascosti in un cassetto di un comodino. Per il gestore del negozio e per il cliente sono così scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri pacchetti di droga sono stati poi trovati dai poliziotti anche ben nascosti sotto il manto erboso dei giardini di Campo di Marte. Noi continueremo così con i servizi ordinari, con i servizi investigativi che spesso la gente non vede, non percepisce immediatamente ma che continueranno a svolgersi e per quanto riguarda la prevenzione e il controllo del territorio ce ne saranno altri. Ripeto, mi piace far passare questo messaggio. Lo Stato c'è e abbiamo bisogno però anche della collaborazione dei cittadini. È un invito che faccio spesso. I cittadini sono antenne del controllo del territorio. Quindi abbiamo bisogno che le persone segnalino, denunciino. in conto.